Improvvisamente tutto il mondo ha scoperto dove è Codogno e noi proprio lì ci spostiamo oggi per bere questa birra, la Terminal di Briofista, appunto birrificio artigianale lodigiano di Codogno. Come al solito direi di partire dalle caratteristiche e quindi di vedere subito la scheda di questa birra, come anticipato il birrificio in questione si chiama Briofista, siamo a Codogno, provincia di Lodi, nella bassa lodigiana, quindi nella parte meridionale della provincia di Lodi e in generale nella parte meridionale della Lombardia. Il nome di questa birra è Terminal, lo stile è un American Pale Ale, categoria 18B per avere il riferimento BJCP, grado alcolico 3,7 gradi, formato 33CL questa bottiglia, il prezzo, vado a memoria, acquistata presso la loro taproom a 4 euro da asporto, bicchiere suggerito la pinta e non si tratta di un primo assaggio. Briofista è un birrificio che nasce a Codogno nel 2010, quest'anno infatti ricorrerà il decimo anniversario dalla fondazione, incomincia abbrassando 4 birre che tuttora sono in linea, il grosso salto a livello di fama probabilmente avviene l'anno successivo, nel 2011, da quando iniziano a produrre la Spaceman IPA, che è una IPA americana, profumatissima, che oggi è un po' una delle trademark del birrificio. Pensate che sul sito viene riportato che il fermentatore dedicato alla Spaceman è molto più grande, ci sono poi tutti gli etolitri, se siete curiosi, è molto più grande di tutti gli altri fermentatori utilizzati per tutte le altre birre prodotte appunto da Briofist. Sempre a proposito del sito internet, vi consiglio di andare a dare un'occhiata al sito internet, perché è così che secondo me dovrebbero essere fatti tutti i siti internet dei birrifici, nel senso che viene raccontata sia la storia della nascita del birrificio, sia chi c'è dietro quel birrificio, sia i fondatori, sia tutto il personale che lavora. Poi vengono riportate tutte le informazioni su tutte le birre in linea, anche sulle one shot, anche sulle edizioni passate. Per le birre vengono riportati anche gli ingredienti, i malti, i luppoli e tutte le caratteristiche. Insomma, è un sito molto completo, a me piace molto andare a curiosare tutte queste informazioni e purtroppo, purtroppo, oggi il mondo della birra artigianale soffre, secondo me, tantissimo dal punto di vista della comunicazione, che è uno dei grossi problemi, dal mio personalissimo punto di vista, dei birrifici artigianali, che spesso non hanno nemmeno un sito internet e quando hanno i social non sono nemmeno poi così aggiornati. Questa birra, come dicevamo, è la Terminal, birra che prende il nome da Terminal One, che è la taproom, che prima era in una posizione un po' più centrale del paese, adesso si è spostata ed è praticamente appiccicata al birrificio stesso, quindi nella zona di produzione. E infatti si è spostata nella zona industriale di Codogno, leggermente più periferica, ma stiamo parlando comunque di un paesino tutto sommato piccolo e quindi è facilmente raggiungibile anche dai paesi limitrofi. La birra in questione, come ho anticipato, è un American Pale Ale e mi sono segnato giusto le caratteristiche dell'American Pale Ale che sono andato a leggere sul BJCP, giusto per iniziare a pensare, a capire cosa ci aspetteremo nel bicchiere. In questo caso conosco già la birra, ma vabbè, giusto per fare un piccolo ripasso di quello che è lo stile dell'American Pale Ale. Interpretazione americana, appunto, delle birre chiare, pallide, appunto, classiche, britanniche. Sono multi pale tipicamente e basta. Solitamente vengono utilizzati solo multi pale. Sono concessi dei malti speciali per raggiungere un po' di complessità, ma sempre in percentuali bassissime del gris, quindi del mix totale di malti e cereali che si vanno ad utilizzare per la produzione del mosto della birra. Possono essere utilizzati questi malti speciali per dare appunto un pochino più di complessità, come note di pane, di crosta di pane o di pane tostato. Altra caratteristica fondamentale e ancora più importante dell'aspetto maltato delle pale ale è sicuramente il luppolo, che sono luppoli americani o comunque in generale vengono indicati come luppoli del nuovo mondo, tirando dentro anche le cultivar, per esempio, che adesso stanno andando molto dell'oceania, in particolare della Nuova Zelanda. Lieviti per le pale ale sono lieviti neutri, tipicamente lieviti britannici. Eventualmente possono essere utilizzati anche lieviti che danno un leggero tono fruttato, ma sempre appunto in maniera molto leggero e in secondo piano rispetto alla parte data dal luppolo. Ci aspetteremo quindi un aroma essenzialmente luppolato, luppoli americani, quindi agrumi e luppoli resinosi, e in secondo piano nell'aroma in malti, e anche in bocca ci dovremmo aspettare la stessa cosa, quindi la parte luppolata in primo piano è la parte di malto di supporto, appunto questo luppolato, sempre con un corpo leggero o medio leggero e un basso grado alcolico. Per la precisione di questa birra, come dicevo, sul sito vengono riportati anche gli ingredienti. I malti utilizzati sono malti pale e malto Vienna. Non sappiamo le proporzioni, ma sono entrambi malti base. In particolare il Vienna è un malto che viene preparato a temperature leggermente più alte rispetto al malto pale e rispetto al malto pils. E infatti il Vienna può dare caratteristiche un po' più ombrate all'utilizzo della birra e leggermente più dolci. I malti Vienna assolutamente vengono utilizzati per molte basse fermentazioni, le Vienna Lager ovviamente, ma anche le Marzen, per esempio, spesso contengono anche un buon 50% di malto Vienna. I luppoli utilizzati in questa birra sono il Citra, un luppolo molto famoso appunto americano, e il luppolo Wellmelon, che è una cultivar tedesca. Sono andato a cercarmela molto molto recente, infatti è stata commercializzata dal 2012 ed è un po' una risposta, diciamo, tedesca che negli ultimi anni sta avvenendo alle cultivar super fruttate e molto resinose appunto americane. Non è specificato sul sito quale dei due o se entrambi in parte sono stati utilizzati in aroma e in amaro, sono entrambi luppoli d'aroma, ma sappiamo che in base al modo in cui viene utilizzato il luppolo è possibile utilizzare un luppolo particolarmente profumato, quindi particolarmente ricco di oli essenziali, anche in amaro, con infusioni con tempi lunghi, ovviamente a temperature elevate in fase di boil. Ok, direi che posso aprire la bottiglia in questione. Come anticipato, bicchiere pinta, in questo caso è un po' più piccolo perché l'altro bicchiere più grande in questo momento è occupato. Mi stavo dimenticando una cosa importantissima che è l'estetica della bottiglia. Allora, partendo dal tappo che ho appena tolto, il tappo riporta il logo BrewFist Italian Ales e sullo sfondo c'è una serie di immagini che fanno fare un po' da texture a molte delle grafiche di BrewFist con tante cose diverse, ma spesso ricorre sempre oggettistica legata al mondo dell'aeronautica o aerospaziale, proprio in riferimento alla Spaceman. Infatti in questo caso c'è un casco da astronauta, poi c'è una cravatta, c'è uno stetoscopio, si vede quella che potrebbe essere un paio di manette, una pompa di benzina e un remo, probabilmente. Mentre l'etichetta sulla bottiglia è una singola etichetta, cosa che mi piace molto che è storta, nel senso che non finisce in maniera con un angolo circa 90 gradi, quindi non è un adesivo rettangolare, ma appunto trapezio, e lascia questa zona non coperta dall'etichetta che comunque ha comunque un bel aspetto dal punto di vista estetico. La grafica appunto, come dicevo, è questo stile fumetto moderno, comunque fumetto americano, logo di BrewFist, sono tutte diverse in base appunto alla tipologia di birra, sono molto curate le etichette, in questo caso Terminal, che si rifà appunto a Terminal One, che è il nome della taproom di BrewFist, e il disegno è quello di un terminal, appunto di un aeroporto. Sul lato ci sono le stesse informazioni che ci sono anche sul sito, che appunto, dicevo, sono molto utili, grado alcolico, ingredienti, e c'è una infografica dove praticamente ci sono due linee, su un estremo c'è pale e sull'altro dark, quindi per capire il colore di questa birra, ed è tutto sposato verso pale, e sotto c'è malto e ops e luppolo, ed è, diciamo, nella seconda metà spostato verso l'uppolo. Quindi, se andate sul sito, trovate le caratteristiche, quindi di colore, con la scala, gradi plato e gradi ibu. Sull'etichetta avete un'infografica molto più facile da leggere, comunque già a colpo d'occhio capite che è una birra chiara e con l'equilibrio spostato leggermente verso l'uppolo. Ok, possiamo versare la birra. Ok, non riesco, ovviamente, come dicevo, il bicchiere è un po' piccolo, non riesco a versarla tutta. Cosa possiamo vedere innanzitutto? Una schiuma abbondante di colore bianco, direi, con una texture abbastanza fine. Il colore della birra è, appunto, un colore giallo, leggermente, appunto, velata. Più che velata è un pochino pallida, pur proprio per l'utilizzo dei malti pale, appunto. Passiamo al naso che già da questa distanza sta arrivando. Come ci aspettavamo, la prima cosa che emerge è, effettivamente, la parte luppolata ed è sicuramente un luppolo agrumato. Effettivamente, il luppolo ci tra questo ci dà una parte agrumata, leggermente resinosa, ma principalmente frutta, e per essere più precisi, pensiamo agli agrumi. Sì, c'è una parte adatta dei malti, ma bisogna proprio soffermarsi, concentrarsi e pensare. C'è la parte di pane che mi aspettavo? Sì, se mi fermo, mi concentro a pensare, la sento. Sennò, ovviamente, la prima cosa che arriva al naso è sicuramente la parte del luppolo. E anche in bocca è esattamente quello che ci aspettavamo, perfettamente, appunto, aderente allo stile. Innanzitutto, un'apertura con un corpo molto leggero e una buona luppolatura. È interessante anche qui l'equilibrio. Arriva subito alla parte dei luppoli. Non è eccessivamente amara, ma comunque arriva bene all'amore del luppolo. Segue la parte di malto che sostiene questo luppolo. è interessantissimo che poi, alla fine, ritorna ancora al luppolo. Quindi in bocca c'è questo bellissimo equilibrio luppoli. Più sposate sulla parte, appunto, di fruttato del luppolo, aggrumato del luppolo, parte del malto e poi tutta la chiusura amara, tipica, appunto, delle luppolature generose. Questo bel equilibrio in bocca è comunque sempre molto delicato e ovviamente è una birra che finito il primo sorso stai già pensando di dover berne un altro sorso, appunto, perché essendo così bella secca sul finale, un corpo molto leggero, carbonazione non eccessiva, è una birra molto, molto facile da bere. Questa quindi era la Terminal di Brew Fist. Scol. 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 Grazie per la visione!